eccoci qua ben trovati io sono a Pistoia alla libreria Le Buchinist insieme a Matteo Belliti Zacche ciao ben trovato salve ciao grazie per essere qua a Pistoia con noi hai un libro inquadriamolo subito Zacche dire il colore esatto allora è un libro di poesie sì è un libro di poesie è uscito qual è sarà mai colore esatto il colore esatto è una metafora dire il colore esatto significa riuscire a trovare le parole giuste per raccontare la realtà che ci circonda guarda questo la cosa più semplice logica e chiara ed è anche la più complicata più semplice c'è però è anche uno dei compiti della poesia la poesia si dà il compito di di trovare proprio quelle parole e solo quelle che ti servono per raccontare quello che ti succede quello che ti succede intorno la realtà che ti circonda in questo libro ho messo insieme fatti privati quello che succede a me e fatti pubblici cose che accadono nella società ad esempio ci sono ancora troppe morti sul lavoro allora ci sono una serie di poesie dedicate ai morti sul lavoro perché non non dobbiamo dimenticarci non dobbiamo dimenticarci i nomi di chi perde la vita nel lavoro ma ci sono anche poesie molto più più leggere su fatterelli di cronaca tra filetti che potete trovare sul giornale a un certo punto mi colpì che avevano rubato il cervello di don bosco una reliquia il ladro aveva pensato bene di portarselo a casa per chiedere un riscatto e l'aveva messo questa reliquia il cervello di don bosco dentro un pentolino in cucina aspetta è vero è vero guardate googlate cervello di don bosco l'arcivescovo dice non c'è riscatto possibile non potete chiedere un riscatto per il cervello di don bosco i carabinieri arrivano ritrovano il cervello di don bosco in una piccola pentolina nella cucina di un matto che si era rubato questa reliquia ecco per quale motivo uno dovrebbe scrivere una poesia su questo fatto perché forse ci racconta che i nostri tempi sono un po matti vero sono un po assurdi cioè questo matto però aveva proprio semplificato no allora matto allora si era bevuto il cervello e aveva messo il cervello dentro un pentolino ecco la poesia serve anche a raccontare fatti ridicoli come questo però che raccontano qualcosa della nostra contemporaneità il mio tentativo è questo in poesia non parlare della grande metafisica la vita la morte sì ci sono ma anche raccontare un po quello che ci circonda certo e matteo pelliti chi è allora matteo pelliti è uno scrittore è un scrittore che lavora anche come impiegato in un ufficio dove scrive anche in un ufficio scrive anche in ufficio e però la scrittura gli piace praticarla in tante forme diverse ho scritto per il teatro ho scritto per simone cristicchi oh che bello ho scritto poesie ho scritto fiabe per i bambini è il modo in cui mi esprimo e cerco di farlo con con tanti diciamo registri con tanti stili diversi però sempre scrivendo hai scritto per simone cristicchi cosa dice delle sue cose ma simone diciamo è molto generoso con gli amici gentile con gli amici il mio precedente libro che si chiamava dal corpo abitato aveva un cd allegato al libro dove simone recitava un po di quelle poesie le legge bellissimo è un libro che ancora trovate in commercio dal corpo abitato e ci sono poesie lette da simone è andata a cercarlo perché una cosa dal corpo abitato e e con simone diciamo più che essere un suo collaboratore sono un suo amico siamo amici da tanti anni e ogni tanto scriviamo anche delle cose insieme quando a lui serve qualche cosa quando immagina che io gli possa essere utile mi chiama amici matteo è una mano su questa cosa la segui anche nei teatri nei teatri qualche volta è capitato che sono andato per le cose che avevamo scritto insieme l'ho seguito una bella soddisfazione sì da una bella soddisfazione perché tu puoi sentire rispetto a una cosa che hai scritto immediatamente la reazione di un teatro intero o del pubblico rispetto a quella parola quella frase cosa che con un libro tu hai solo in occasioni belle come queste quando vai in libreria e poi raccontare le tue cose e vedi le persone come reagiscono oppure se qualcuno poi ha letto il tuo libro ti dice mi è piaciuta quella tal cosa in quell'altra mi sono riconosciuto e questo diciamo è il bello dello scrivere perché sennò uno si tiene i diari e li scrive per sé ma scrivere è comunicare dei vissuti delle idee dei pensieri agli altri e quindi voler incontrare gli altri sei social sono molto social non so sembra un giudizio però uso instagram uso facebook uso youtube quanto basta quanto basta ho un mio blog da o di da più di boh da una quindicina d'anni quindi prima dei social prima dei social e si chiama coltisbagli.it bellino vengo a vengo a disturbarti vengo a curiosare coltisbagli.it è appunto il mio blog quindi è il mio diario in pubblico le cose che scrivo le cose che mi interessano passano attraverso il blog la stagione dei blog c'è stata all'inizio degli anni 2000 quando i social non c'era ancora la fortuna dei social è stata quella di assorbire tante pratiche che erano distribuite un po nei blog nelle chat nei gruppi di discussione nelle raccolte fotografiche vero la grande fortuna dei social è quella di aver condensato delle pratiche che dieci anni fa chi stava sul web faceva in molte piattaforme diverse per generazione quasi cinquantenne ho vissuto la stagione dove si comunicava si discuteva ci si confrontava sul web e i social non c'erano ancora non erano ancora arrivati e io come te che ho più di cinquanta anni e quindi siamo nella stessa nella stessa barca nella stessa barca lo rinquadriamo al libro questo dire il colore esatto luca sossell editore c'è una bella prefazione di fabio pusterla che è un grande poeta in lingua italiana svizzero ma scrive in italiano ci sono le illustrazioni di guido scarabottolo che è un grande illustratore e sono molto felice di essere qui alle buchiniste perché è una libreria per me molto importante che mi è nel cuore per l'amicizia che mi lega a elene che mi ha legato a sergio e quindi sono molto emozionato a presentare per la prima volta la prima uscita pubblica di questo libro proprio qui a pistoia alle buchiniste è una vera gioia per me e ti dico grazie mille sei stato gentilissimo grazie a voi